Erano previsti ed anche necessari. Più volte erano stati sollecitati dal management di Argest e finalmente sono diventati una realtà. Entro domani all'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi saranno attivati i controlli del traffico veicolare con videosorveglianza. Il comune di Misili Scemi si occuperà dei controlli in collaborazione con la dirigenza dell'aeroporto. Stamattina stanno lavorando per finalmente mettere in funzione le telecamere e dotare di quegli strumenti di controllo che fanno sì che le persone siano più disciplinate e rispettose delle regole in prossimità della rotonda e dell'ingresso all'aeroporto. Quindi verrà monitorato e chi non rispetterà le regole verrà multato adeguatamente per questo. Questo da partire fra oggi e domani. Le novità che riguardano l'aeroporto non si fermano alla videosorveglianza. In attesa che venga costruita la tratta ferrata che collega Punta Reis a Birgi con conseguente costruzione della stazione ferroviaria a servizio dell'aeroporto, sempre il comune di Misili Scemi si è dotato di una convenzione con i tassisti di Erice. Abbiamo fatto un'altra cosa importante, forse te l'avevo già detto. Abbiamo stipulato una convenzione con i tassisti di Erice. Ancora noi non abbiamo avviato questa procedura ma nel frattempo l'obiettivo era quello di dotare il mio territorio della capacità di poter utilizzare un altro strumento di collegamento con l'aeroporto. E quindi i tassisti di Erice servono nel nostro territorio e anche con dei prezzi non esorbitanti. In come aveva fatto una convenzione per il progetto. Esatto, e quindi questo sta per partire pure in questi giorni. Grazie a tutti.